La notizia che sta circolando negli ultimi giorni in merito alla chiusura della chiesa di Santa Maria della Tomba è vera. A annunciarlo attraverso una lettera indirizzata agli amici e parrocchiani della chiesa di piazza Plebiscito e il vescovo di Sumonavalva, Monsignor Angelo Spina. La notizia ha colto anche noi di sorpresa, non abbiamo ricevuto infatti alcun preavviso, scrive il presule nella lettera, e la comunicazione dell'inizio dei lavori ci è pervenuta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici che ha predisposto per il 13 febbraio la consegna dei lavori a cui noi abbiamo dato assenso. Il vescovo Spina nella stessa lettera chiarisce anche le motivazioni della chiusura dell'intero complesso parrocchiale. È stato accordato un finanziamento a base d'asta di 722.636,26 euro, scrive Monsignor Spina a seguito dell'individuazione e di situazioni di vulnerabilità dell'edificio dopo il sisma del 6 aprile 2009 che interessa gli elementi di cui la chiesa è formata, la facciata, le navate centrali e laterali, la zona psidale, transetto, il campanile, la sagrestia e i corpi secondari. Per effettuare i seguenti lavori, aggiunge il prelato, occorrerà un anno, precisamente dal mese di febbraio 2014 al mese di febbraio 2015. Tuttavia, consapevole delle consistenti difficoltà che la chiusura dell'edificio di culto comporterà al parroco e ai parrocchiani di Santa Maria della Tomba, Monsignor Spina invita a guardare al futuro con fiducia perché è importante mettere in sicurezza una chiesa di grande rilievo per la sua storia, per l'alte, per l'architettura, per la fede e la spiritualità. Intanto la notizia, che ormai è già divulgata in tutto il capoluogo Peligno, provoca le prime reazioni di preoccupazione per la riuscita delle manifestazioni religiose legate alla settimana santa che a Sulmona sono radicate secolari. La chiusura della chiesa in ogni caso non anneggerà le tradizioni di culto che attengono alla fede e alla tradizione popolare. Tutto sarà organizzato per il meglio a fine di evitare il più possibile dei disagi in tal senso. Infine, per quanto concerne le celebrazioni liturgiche e gli altri impegni della comunità parrocchiale di Santa Maria della Tomba sarà il parroco Don Gilberto Squategui elargire nei prossimi giorni delle disposizioni a proposito.